Una buona giornata, ben ritrovati con Mattino 6 che riprende la sua programmazione dopo lo stop di ieri dei giornali che non sono stati in edicola causa festività di Ferragosto. Ricominciamo ovviamente da dove ci eravamo fermati, ovvero con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali soprattutto, ma anche nazionali e sportivi. Nella prima parte, poi nella seconda parte, entreremo proprio nei nostri quotidiani, quelli che troverete in edicola, nelle edicole abruzzesi. Già da qualche ora trovate in edicola per approfondire meglio le tematiche di questo post Ferragosto 2017. Intanto facciamo come di consueto una panoramica sulle prime pagine dei quotidiani regionali, partendo con le quattro edizioni del centro. Ovviamente partiamo con la prima pagina dell'edizione di Pescara, l'apertura è dedicata alle scariche elettriche dai tombini e allarme. Pescara, giovane, finisce in ospedale, muore un cane e il comune ordina dei controlli a tappeto, proprio su questo tombino che ha creato parecchi disagi. Scendiamo in pagina perché andiamo prima sulla parte nazionale, sulla sinistra, orrore a Roma, donna fatta a pezzi, il fratello che vedete è arrestato, Maurizio Diotallevi, che ha ucciso la sorella Nicoletta, che confessa, sì, sono stato io. A centro pagina la fotonotizia è dedicata a due grandi cantautori italiani, Fiorella Mannoia e Roberto Vecchioni, e non solo, che si esibiscono in Abruzzo, i nostri concerti per l'Abruzzo. Fiorella Mannoia sarà a Franca Villa, Roberto Vecchioni ad Atri. Dunque, due grandi appuntamenti con gli eventi estivi nella nostra regione, soprattutto con la grande musica. Andiamo invece di spalla, sul lato destro della prima pagina, e ovviamente entriamo nelle cronache, perché è stato purtroppo un ferragosto e anche un post, anche funestato dagli incidenti stradali. Schianto in autostrada, muore bambina di 9 anni sulla A25 tra Celano e Avezzano. Questa è la foto delle auto coinvolte nello schianto tra i caselli proprio di Celano e di Avezzano. A Franca Villa sempre, sequestrati 800 sdraio e ombrelloni. E poi, nella parte relativa allo sport, ovviamente siamo sull'edizione di Pescara, non può mancare la notizia sugli abbonamenti del Pescara, che già piace, abbonamenti a quota 3.750. È chiaro che non era affatto semplice dopo l'annata passata. Invece il pubblico biancazzurro, come al solito, ha risposto presente. Il centro maedizione di Teramo. Questione scuole. Brucchi accelera sui MUSP. Convocato un incontro con tecnici e dirigenti di istituto in attesa dell'ok di Vasco Errani. Questa è l'apertura del centro edizione di Teramo. E proprio in provincia di Teramo andiamo nelle cronache, perché Pineto, purtroppo altro evento che riguarda le nostre strade, si scontra con un camion grave. Una ragazza a Pineto si è scontrata contro un camion che trasportava rifiuti. Invece in Val Vibrata, a Nereto, inchiesta sull'assunzione in comune. Andiamo sull'edizione di L'Aquila Avezzano Sulmona. Ovviamente qui l'apertura non può che essere dedicata proprio allo scontro in cui ha perso purtroppo la vita una bambina che muore nello schianto. Celano, Ferragosto di sangue in A25, gravissima la madre. Peraltro c'è stata anche un'altra vittima che viaggiava su un altro mezzo. Perde la vita anche un'altra donna. Nelle cronache, purtroppo, al centro di questi giorni ci sono anche i tanti incendi e le inchieste per il rogo di Aragno, sospettata una donna. A Sulmona, ladri pentiti dopo 15 anni, riecco le corone della Madonna. E in Valle Roveto, Piromane, devasta i Castagneti. E questa è una foto dei Vigili del Fuoco proprio a lavoro nella Marsica. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella dedicata a Chieti, anche a Lanciano e a Vasto, si torna sulla questione incendi, Piromane per protesta contro le multe. A Schiavi di Abruzzo, Carabinieri sulle tracce di un'automobilista più volte vittima dell'autovelox che ha pensato di dare fuoco ad una delle colonnine dell'autovelox. Nelle cronache a Chieti, tribunale in lutto, muore a 50 anni il giudice Antonella Radaelli che vedete nella foto è a Lanciano. Sevel non piace l'alleanza con i cinesi. Nella foto Davide Labrozzi della FIOM CGL a cui ovviamente non piace questa alleanza della Sevel con i cinesi. Andiamo sulla prima pagina del messaggero. Dunque cambiamo quotidiano. L'apertura, Ferragosto tragico, due morti, come avete visto, sulle strade. Celano, scontro tra auto, perdono la vita una bambina di 10 anni e una donna polacca. Altro schianto nel Terramano, vettura contro un cassonetto, ragazza in rianimazione. Nella parte alta a Chieti, come avete visto, malattia stronca a 50 anni il GIP Antonella Radaelli. A Loreto, 70 migranti nell'agri-tourist, sospiri e marinelli sono sulle barricate. Nello sport invece Pescara, ceduto Biraghi alla Fiorentina, arriva Baez. Altre notizie. A Pescara, revocata la concessione alla Paranza. E invece di spalla il ghiacciaio del Calderone che si è sciolto per il grande caldo. Sempre a Pescara, tombino elettrico, passante ferito e il cane è folgorato. L'episodio forse a causa di cavi elettrici scoperti sul lungomare altezza del parco Deriseis. E i roghi invece per distruggere l'autovelox, piromani, fronte di fuoco addirittura di 7 chilometri sulla Trignina. Qui vedete un mezzo proprio che cerca, un mezzo della protezione civile che cerca di spegnere i tanti roghi che si sono purtroppo verificati nella nostra regione. Infine una notizia in basso, la calda estate, la regione dichiara guerra ai satanisti. Andiamo sulla città, prima pagina quotidiano della provincia di Teramo. Ferragosto nero sulle strade, 5 feriti negli incidenti delle festività. Rosetana gravissima in ospedale e invece un tortoretano è in coma. In alto l'incendio alle porte di Teramo a Magnanella in fumo, 60 ettari di pineta secolare. Il Borsacchio invece non si atterra di spartizione la riserva contesa. A Roseto una nuova rotonda da 2 milioni di euro. E poi un caso particolare, allarme del rifugio Farnchetti poi la rettifica. Ghiacciaio sparito, si era sparso questa notizia del ghiacciaio scomparso. Invece poi a causa del grande caldo poi c'è stata evidentemente la rettifica. Poi l'intervista sulle pare opportunità a Tania Bonnici Castelli. Sulle pare opportunità c'è ancora tanto da fare. Ad Alba Adriatica invece in ospedale dopo la rissa in discoteca. E andiamo sulla questione scuole. Convocato il tavolo tecnico. Martedì saranno comunicati i risultati delle verifiche bis. Scendiamo a fondo pagina. Andando a Giulianova, Viale Orsini è diventato un autodromo. E per il calcio Lega Pro Serie C, anzi casting Teramo in arrivo. Due attaccanti in prova che si stanno allenando con la formazione di Antonino Asta. Dalle pagine regionali adesso andiamo sui quotidiani nazionali. Partendo ovviamente dall'inizio per vedere come apre il Corriere della Sera. Con una buona notizia perché il PIL, e parliamo di economia, cresce più del previsto. Vola la borsa, il Premier buona base per il rilancio. Berlino con Draghi sugli acquisti dei titoli. Aumento dell'1,5% rispetto al 2016. Il Ministro dell'Economia Padoan dice Ora servono misure per il lavoro ai giovani. Tante volte richieste, ma poi spesso e volentieri mai realizzate. In alto, rivelazioni dagli Stati Uniti sul caso di Giulio Reggeni. Il governo frena, ma è scontro politico. Scendiamo in basso perché c'è proprio sul Corriere della Sera una lettera di scuse di Papa Francesco che chiede perdono per i preti pedofili. Francesco, la prefazione al libro di una vittima. Severità massima anche per i cardinali. Andiamo sulla Repubblica. Anche qui, apertura dedicata al caso di Giulio Reggeni. Scontro sulle rivelazioni degli Stati Uniti. Il governo dice notizie generiche. Mai le carte. Un ex funzionario di Obama dossia gli 007, l'ambasciatore Al Cairo, con un supporto investigativo. Di spalla, anche qui si torna sull'economia. La crescita c'è, PIL verso l'1,5%. Ma purtroppo il lavoro non riparte. E poi negli Stati Uniti, polemica a Baltimora. Rimosse le statue dei generali sudisti. Questi sono alcuni ragazzi che posano per una foto davanti a ciò che rimane della statua del generale sudista Robert Lee, proprio a Baltimora. La stampa. Anche qui, America. La guerra delle statue. Dal Maryland alla California. Rimossi monumenti osannati dai suprematisti. Economia. Il PIL sale dell'1,5%. Ma serve un piano per l'occupazione. L'economia resta la più lenta dell'Unione Europea. Gentiloni però, dice, è una buona base per il rilancio. Questi sono i dati che sono superiori alle aspettative. Dati ovviamente dell'Istat. Sulla questione migranti. Il ministro Minniti avviena via i soldati dal Brennero. L'Austria ne invia 70 per controllare i migranti. Il Viminale atto immotivato. Ci aspettiamo una retromarcia. Poi sul caso Reggeni, la difesa di Renzi. Obama non ci parlò di Giulio. Il sole 24 ore, anche qui. Anzi, proprio su un quotidiano economico come il sole 24 ore, non poteva che essere l'apertura, ovvero il PIL che è a sorpresa. Cresce dell'1,5%. Gentiloni, dati migliori del previsto. Padoan, risorse sulle assunzioni e sugli investimenti. Nel secondo trimestre, crescita dello 0,4%. Quella acquisita per il 2017 all'1,2%. Boccia, ripresa più solida. Ora avanti sui giovani. E c'è anche un'infografica sui paesi principali dell'Unione Europea. Ovviamente l'Olanda la fa da padrone con il 3,8%. L'Italia è comunque fanalino di coda, nonostante cresca dell'1,5%. Meno 0,8% rispetto alla media della crescita in generale nell'Unione Europea. Comunque sono buoni dati. Il Fatto Quotidiano. L'apertura è dedicata al caso Reggeni. Silenzio di tomba. Renzi, Gentiloni, Alfano. Il New York Times che dice Obama passò a Roma le prove su Al-Sisi. E poi ancora economia. La crescita è la più bassa. Qui c'è una lettura un po' differente. La crescita è più bassa dell'Unione Europea. E la disoccupazione è la più alta. Evviva. Il PIL sale dello 0,4% tra marzo e giugno. Ma chi è davvero senza lavoro rimane ancora al 30%. Scendiamo. Che sono due casi. Un anno dopo terremoto e bugie. è consegnato solo il 15% delle casette. Ovviamente parliamo del sisma del centro Italia. E il caso Boldrini. Contro gli odiatori del web funziona soltanto il bastone. Il messaggero, ma ovviamente l'edizione nazionale, cresce il PIL, la manovra. E allora a fine anno sarà certamente più leggera. Nei primi sei mesi l'aumento su base annua vicino all'1,5%. L'Europa sale del 2,2%. In arrivo taglio alcuneo fiscale e fondi per la povertà. Renzi, nessun duello dice sulle misure. In alto l'intervista alla Premier Dam. Brigitte Macron, il peggior difetto di mio marito, dice solo che è più giovane di me. FCA e BMW, la grande alleanza per l'auto a guida autonoma, per il calcio, la questione Keita nella Lazio, diserta Formello. Roma invece di Francesco chiede ancora due rinforzi per il campionato che inizierà proprio nel fine settimana, quello di Serie A. Il caso Reggeni, PM italiano con l'ambasciatore, scontro con gli Stati Uniti. Questa è la scelta del governo. E poi la cronaca, quella proprio a Roma, che vediamo, orrore a Roma, confessa il fratello, fatta a pezzi, mi dava pochi soldi. Maurizio Diotalevi al termine dell'interrogatorio in questura, dove ha confessato di aver ucciso la sorella di 59 anni, Nicoletta. Svolta sul terremoto, invece, le tasse azzerate per tutte le imprese. Dopo la denuncia di Pirozzi, sindaco di Amatrice, al messaggero, il Ministero per lo Sviluppo Economico corregge esenzione in tutto il cratere. Il Tempo Apertura dedicata al ritorno di Corallo, re delle slot, Fini trema. Stamattina arriva a Roma il re delle slot dopo l'ok all'estradizione di San Marten. E l'uomo della casa di Monte Carlo e dei soldi ai Tugliani. Si è vuota il sacco per Gianfranco Fini, ovviamente, è finita. Ovviamente il Tempo con un particolare focus rispetto alle questioni romane, capitoline. E infatti, sulla cronaca, uccisa e fatta a pezzi e parioli, Ama e Rom incastrano il killer Cassonetti non svuotati e una nomade che fruga tra i rifiuti a tradire l'assassino della sorella. È stato, paradosso, il degrado di Roma così si è risaliti al killer di Nicoletta Diotallevi. Poi la neocoordinatrice di Forza Italia in Molise, ecco perché il Cavaliere mi ha scelta. Questo è invece uno sguardo anche alla politica non proprio romana. E poi a Ostia torna lo stabilimento del Duce, iniziativa di Casa Pound per ripristinare il bagno dell'epoca fascista, dicono, è un simbolo. Il manifesto. Qui la questione Regeni è praticamente, la fa da padrone con il solito titolo molto accattivante del manifesto e con il rientro dell'ambasciatore italiano al Cairo, mutuando un detto abbastanza famoso, l'ambasciatore porta pena. A 24 ore dall'annuncio del rientro dell'ambasciatore italiano al Cairo, il New York Times svela, Roma sapeva che i servizi egiziani hanno ucciso Regeni. Palazzo Chigi, nessuna prova dagli Stati Uniti, la denuncia degli attivisti egiziani via libera alla repressione di Al-Sisi. Scendiamo in basso per vedere invece la questione migranti, soldati austriaci che sono al Brennero. Nel Mediterraneo i libici tentano di sequestrare la nave di un'organizzazione non governativa e economia pilla in corsa ma resta il fanalino d'Europa e poi una notizia a Verona non sei italiana fuori dal festival del razzismo. Libero, quotidiano afferente all'area di centrodestra che figura da cioccolatai l'America sputtana il governo su Regeni. Un anno fa Obama rivelò a Renzi il ricercatore italiano è stato ucciso dagli 007 egiziani ma Palazzo Chigi fece finta di nulla per non compromettere gli affari legati al gas e ora Gentiloni rimanda addirittura l'ambasciatore in Egitto di spalla il Pilsale il Premier festeggia per essere arrivato terz'ultimo nell'Unione Europea e poi il referendum del 22 ottobre che piace anche ai non leghisti il 94% dei lombardi vuole l'autonomia politica internazionale accusi a Trump non ai violenti ormai essere bianchi è diventato una colpa e poi l'orrore a Roma il familicidio provoca centinaia di morti fa pezzi la sorella con la sega e la sparpaglia nei rifiuti chiudiamo con la verità un quotidiano diretto da Maurizio Belpietro gli stipendi dei funzionari che ci impongono le tasse al Ministero dell'Economia leggiamo lavorano quasi 10.000 dipendenti ecco quanto hanno guadagnato nel 2016 558 dirigenti di prima e seconda fascia ai top manager 180.000 euro lordi all'anno oltre 100.000 euro a tutti quanti gli altri tutte le paghe di via 20 settembre dove c'è proprio la sede del Ministero dell'Economia la fotonotizia altro che vacanze low cost Renzi torna nel suo resort di lusso in basso ripartono gli sbarchi dalle navi delle ONG Minniti vede la luce ma siamo da capo attracchi in Sicilia e militari austriaci che sono nel Brennero e poi a fondo pagina la Cina usa gli abitanti come cavie tecnologiche il dragone sembra ispirarsi a 1984 di George Orwell queste le prime pagine nazionali adesso chiudiamo questa prima parte con le questioni sportive con le prime pagine dei principali quotidiani che parlano di sport ovviamente ci avviciniamo alla fine del calciomercato e allora a prendere ampio spazio sono proprio le principali trattative mercato che colpi Matuidi Juve Allegri può fare la rivoluzione aspettando Keita Blaise Matuidi è arrivato ieri proprio a Torino proveniente dal Paris Saint Germain il francese oggi sarà Villar Perosa con lui il tecnico pensa al 4-3-2-1 invece l'attaccante della Lazio Keita Balde ha disertato Formello esasperato dalla Lazio al Milan invece c'è la questione Kalinic che è praticamente addirittura d'arrivo accordo su tutto Montella il tecnico del Milan dice utile alle idee di gioco dei rossoneri che questa sera giocheranno alle 20.45 in Europa League contro i Macedoni dello Scendia e ci saranno i nuovi Bonucci Silva Andre Silva e Cialanoglu questioni Inter invece Cancelo Inter ecco il terzino per Spalletti con Dogbia va a Valencia intesa raggiunta scambio di prestiti senza diritti di riscatto Mangalà favorito per il ruolo di centrale il sogno è sempre quello di portare in nerazzurro Vidal ma l'apertura non può che essere dedicata al Napoli la parte centrale quella più evidente e voilà il Napoli playoff champions Nizza battuto 2 a 0 qualificazione vicina al San Paolo gol del solito Dries Mertens e poi rigore anche contestato dal Nizza di Giorginio ma nel finale in 11 contro 9 gli azzurri mancano il Tris soprattutto con Arkadiusz Milik e martedì ci sarà il match di ritorno proprio a Nizza e ci sarà da difendere questo doppio vantaggio le strategie della Roma invece la Roma vera su quadrado e vara totti dirigente contatto Monci Marotta oggi Francesco al debutto non su un campo di calcio come gli è accaduto per tanti anni ma dietro la scrivania invece la Supercoppa di Spagna ha un padrone ovvero il Real ciclone Real sul Barca Asensio e Benzema Shaw altro trofeo per Zidane con i Blancos che sembrano davvero diventati imbattibili e poi vi segnalo per la serie B Pecchia perdono per la serie A Pecchia si butta Verona ti salvo e il nuoto nell'ago oramai è diventata una moda quello di fare delle scommesse ad inizio campionato proprio scommettendo sulla salvezza della propria squadra andiamo adesso sul Corriere dello Sport Napoli che musica le folate offensive degli azzurri illuminano il San Paolo Mertens sblocca Giorginio firma il raddoppio su rigore martedì la gara di ritorno battuto il Nizza per 2 a 0 l'ingresso Champions ovviamente noi ce l'auguriamo è vicinissimo sarebbe la terza squadra ovviamente dopo la Juventus e la Roma che sono già qualificate ai gironi di Champions League in alto la trattativa della Juve il colpo Juve ecco Matuidi costato 20 milioni i francesi a Torino Lazio lo strappo di Keita che potrebbe andare proprio alla Juventus Pioli allenatore della Fiorentina con il ciolito Simeone possiamo volare voglio una Fiorentina dice che diverta la sua gente in basso questioni milanesi stasera il Milan contro i macedoni dello Scandia Montella Kalinic mi piace molto di fatto dando il colpo definitivo a una trattativa già in fase di risoluzione questione Inter girandola Inter via Condogbia arrivano Cancelo e Mangalà per il tennis rinascita di Nadal che si è ripreso il trono del tennis ovvero la posizione numero 1 chiudiamo con tutto sport l'apertura ovviamente è tutta della Juventus Matuidi e non finisce qui e fa anche Rima 20 milioni più bonus al Paris Saint Germain il francese ieri è arrivato a Torino e in basso invece Inter Condogbia Valencia Spalletti avrà Cancelo Fiorentina Pioli ora è più tranquillo ci sono Simeone e Pezzella per quanto riguarda le altre trattative di mercato Genoa Rossettini Lazare Bologna Palacio Ufficiale e poi per il ciclismo la vuelta di Antonio Nibali che inizierà tra pochissimo Antonio Nibali fratello di Vincenzo lavorerò dice per mio fratello nella corsa spagnola ovviamente io vi segnalo sempre che questa sera torna l'appuntamento con il ciclismo di Veloa alle ore 21 ci fermiamo con le prime pagine adesso le previsioni del meteo la pubblicità poi torniamo per entrare all'interno dei nostri quotidiani a tra poco seconda parte di Mattino 6 entriamo all'interno dei nostri quotidiani vedete alle mie spalle la pagina dedicata a Pescara del centro perché da qui partiamo con quello che è stato definito ormai un allarme Tombini Riviera folgorati sul marciapiede giovane ferito muore un cane paura a Villa Deriseis scarica elettrica da un pozzetto un 34enne di Silvio è finito in ospedale i vigili avevano segnalato il problema poco prima del passaggio dell'animale i proprietari sono sotto shock vediamo qualche fotografia ma soprattutto adesso ci vediamo tra un po' vedremo il servizio proprio del nostro Paolo Renzetti che ieri aveva ha intervistato proprio il vice sindaco Blasioli di cui leggiamo le parole perché il comune ordina dei controlli a tappeto Blasioli pronto a rimuovere a promuovere azioni legali è nel sole assicura gli impianti saranno riqualificati e la questione Tombini prima di vedere il servizio c'è anche e anche l'apertura della pagina di Pescara del quotidiano Il Messaggero folgorati sulla riviera il cane muore un 34enne di Silvio ha riportato traumi e fratture per la scarica elettrica che l'ha fatto saltare e cadere sul lungomare Matteotti sorte peggiore per l'animale a spasso con la padrona e ucciso all'istante davanti al parco di Villa de Riseis queste sono altre foto ovviamente ci sono le parole del vice sindaco Blasioli che dice un fatto gravissimo bisogna che vengano fuori i responsabili Blasioli il salvavita non ha funzionato è nel sole ha messo il sito in sicurezza e ha avviato verifiche sugli impianti cittadini allora ci vediamo proprio il servizio di Paolo Renzetti che ha intervistato il vice sindaco di Pescara Blasioli vediamo siamo sul lungomare di Pescara e questo il tombino dove ieri sera purtroppo c'è stato un incidente che ha causato la morte di un cane e il ferimento anche se fortunatamente in modo non grave di un 34enne che è stato ricoverato in ospedale che è stato giudicato guaribile in 20 giorni vice sindaco Blasioli lei subito questa mattina è venuto qui per fare questo sopralluogo anche con i tecnici del comune più che con i tecnici del comune che pure sono presenti con Pescara Energie che non è nel sole che hanno in gestione diciamo la pubblica illuminazione di Pescara da loro abbiamo richiesto subito una relazione dettagliata per questo che ci sembra un fatto grave che è successo a Pescara ci stanno già spiegando adesso con un piccolo sopralluogo e anche con la scopertura di questo pozzetto quello che potrebbe essere successo ma dobbiamo capire bene soprattutto perché in una serie di coincidenze il differenziale non ha funzionato c'è stato questo animale che è rimasto folgorato questa persona che è rimasta ferita si è rischiato tanto però ieri sera si si è rischiato tanto perché c'era tanta gente mi scusi vice sindaco Blasioli a passeggio nella serata di Ferragosto lungo la Riviera da quello che mi spiegano pare che ci siano state una serie di coincidenze che difficilmente potrebbero riverificarsi però ecco noi dobbiamo stare veramente molto attenti a fare in modo che questo non si possa più verificare ecco perché già da questa mattina alle 8 siamo sul posto stiamo cercando di capire bene che cosa può essere successo soprattutto da loro e con loro dobbiamo andare a fondo su tutta quanta la vicenda per cui abbiamo chiesto questa relazione per capire bene la situazione ci dispiace naturalmente sia per questo ragazzo che credo sia un ragazzo di 34 anni adesso non conosco neanche chi sia e sia nei confronti di questo cane che purtroppo ha perso la vita naturalmente ci scusiamo con questi turisti che credo non siano pescaresi ma di Roma da quello che mi dicono insomma tutte le responsabilità verranno accertate ma soprattutto quello che dobbiamo garantire alla cittadinanza è che situazioni come queste non si possono più verificare e ripetiamo sono una serie di coincidenze ma faremo di tutto per verificare nel giro di 24 ore ogni situazione se c'è bisogno anche di segnare eventuali pericoli lei non era qui ieri sera però le hanno raccontato poi quello che è accaduto anche perché i suoi colleghi dello stabilimento sono usciti fuori sì a me i miei fratelli mi hanno raccontato perché poi ieri mi hanno chiamato di quello che è successo e siccome il mio stabilimento come tanti altri è affollatissimo di bambini io mi chiedo semplicemente una cosa e se ci fosse stato un bambino cosa sarebbe accaduto nulla a togliere perché ho il cane quindi per me è sempre una tragedia però se ci fosse un bambino un bambino piccolo con la mamma o un passeggino cosa sarebbe successo continuiamo la lettura dei quotidiani sempre a Pescara rimanendo sul centro picchia la madre altra cronaca dopo il pranzo di Ferragosto un 24enne ubriaco se l'è presa con i poliziotti che cercavano di fermarlo adesso agli arresti domiciliari invece un farmacista mette in fuga il bandito col coltello il rapinatore ha abbandonato l'impresa temendo la reazione della vittima in piazza San Francesco lo aspettava un complice e sono fuggiti in scooter altre questioni che riguardano la città il degrado giaciglio sulla golena in pieno giorno ancora bivacchi in centro lungo la golena sud il controllo in ass nelle strutture per gli anziani proprio nel giorno proprio il 15 di agosto schianto in motorino cronaca il giovane pugile resta in gravi condizioni e poi andiamo sulla politica a Pescara con il rimpasto sempre più probabile Diodati non scambio il posto in giunta Diodati dovrebbe essere l'assessore uscente uno dei due uscenti l'assessore respinge la proposta di un incarico alternativo avanzato dal sindaco e adesso scoppia anche il caso Pignoli e proprio sulla questione rimpasto di giunta ascoltiamo proprio il consigliere Massimiliano Pignoli quasi tutto deciso per il rimpasto di giunta entrerà nella giunta Alessandrini Gianni Teodoro della lista Pescara consigliere Pignoli quale ad oggi la situazione ma è un giorno dopo il ferragosto per cui è una situazione tranquilla aspettiamo l'evolversi noi abbiamo avuto certezza da parte un rincontro fatto col sindaco il segretario cittadino con il capogruppo del PD e con il capo di gabinetto del sindaco c'è stato un confronto penso positivo per cui non ci dovrebbero essere problemi l'uscita di scena dell'assessore Giuliano Diodati ha creato malumori creerà malumori in una parte del Partito Democratico ma è una questione che a noi non riguarda sinceramente però potrebbe creare problemi negli equilibri del centro-sinistra e della maggioranza ma sarà il Partito Democratico a risolvere questi problemi io conosco l'amico Giuliano Diodati persona seria persona disponibile persona capace un buon professionista però poi le dinamiche politiche sono tutt'altra cosa per cui sarà il Partito Democratico a derimere questa ulteriore matassa che si è creata all'interno noi non cercavamo nulla il sindaco ci ha chiesto una rappresentanza in giunta noi anche durante il Consiglio Comunale non abbiamo mai rivendicato al sindaco la maggioranza la possibilità di dover e voler entrare in giunta il sindaco ci ha chiesto una persona capace una persona che sappia dare risalto all'amministrazione comunale che sappia dare spinta propulsiva a questi ultimi anni e mezzo che ci è rimasto in Consigliatura e noi unitamente io unitamente al Capogruppo Teodoro abbiamo individuato questa persona in Gianni Teodoro una persona seria una persona capace una persona disponibile una persona che ha veramente all'interno della pubblica amministrazione un risalto e che ha governato anche tanti anni Consigliere Teodoro cambierà qualcosa con la presenza di Gianni Teodoro in giunta per quanto riguarda la lista Teodoro da qui al termine della legislatura? Noi continueremo a essere propositivi come lo siamo sempre stati sia in Consiglio e questa volta anche in giunta dove c'è il governo e il cuore della città certo è una persona esperta a cui non dobbiamo dare consigli e lui che ci ha sempre dato dei consigli come organizzare amministrare cercare di essere d'impulso e di pongolo all'amministrazione comunale sarà sicuramente capace e saprà sicuramente far bene non per noi ma per la città di Pescara e a Pescara rimaniamo perché per la concessione che è stata revocata alla paranza il comune ha contestato ai titolari un debito che è superiore a tre annualità di canone disposto lo sgombero della spiaggia Sergio Danolfi rimetteremo i conti a posto e penseremo al ricorso i divieti di balneazione dice ci hanno danneggiato molto rimaniamo sulla pagina pescarese del messaggero Loreto 70 profughi in agriturismo sospiri e marinelli sulle barricate il sindaco di Pianella e il capogruppo regionale forzista scrivono al comune e al prefetto per una verifica dramma invece in via Bari donna muore in casa tra degrado e incuria a Francavilla invece sequestro di ombrelloni e di lettini operazione della guardia costiera proprio in azione a Francavilla al mare ed è stato un ferragosto da sballo in piazza e in spiagge nelle piazze Cuzzi rilanciata l'immagine turistica della città di Pescara ma sulla questione della concessione della paranza vediamo che c'è anche un richiamo sul centro tolta la concessione di Magnale il comune lo stabilimento la paranza non paga i canoni il titolare colpa dei divieti in mare a Ferragosto zuffa per futili motivi due persone sono state ferite e poi in basso aggredito in discoteca sulla riviera il racconto della vittima mi hanno strappato dal collo una collana del valore di 1500 euro mare sicuro guardia costiera 630 militari per vigilare sul Ferragosto andiamo avanti per entrare invece sull'area metropolitana di Pescara e ci spostiamo a Francavilla dove vedete sono stati sequestrati 800 sdraio lettini e ombrelloni blitz della guardia costiera sulle 10 spiagge libere la notte di Ferragosto i bagnanti rischiano 200 euro di multa a Montesilvano prostituzione multe a casa se i clienti non pagano pugno di ferro del comune niente più scuse sanzione a chi chiede informazioni alle luciole l'assessore Cozzi non vogliamo fare cassa ma arginare il fenomeno e domani a Montesilvano e sabato a Pescara torna la carovana del cuore fondi per sostenere l'infanzia cronaca ruba nel negozio presa dopo due mesi aveva sfilato il portafogli con 4.000 euro a una commerciante di Sulmona in basso sempre a Montesilvano domani in via l'Europa Pride e Joy tra blues e rock la band in fiamma l'estate Accademia della Voce le canzoni più belle dal 1970 stasera al Teatro del Mare a Corso Strasburgo domani la mostra fotografica sulla storia di Montesilvano torniamo adesso sul messaggero per vedere la parte dell'area metropolitana di Pescara con un evento dado apre lo spoltore ensemble l'artista romano promette risate con il suo canta la notizia da perrotta in segno un omaggio al grande Paolo Villaggio alle 20 in piazza di Marzio il taglio della torta per i 35 anni del festival domani di scena a Riondino sabato arriva Nada a Francavilla invece la festa continua stasera c'è Fiorella Mannoia ci spostiamo nell'area vestina e cambiamo decisamente argomento con il primo cittadino di Penne Semproni che dice no al declassamento dell'agenzia dell'Inps a Penne apriamo adesso rimanendo sul messaggero la pagina dell'Aquila il titolo i sottoservizi verso la svolta entro Natale stoppa le criticità l'obiettivo è quello di chiudere i tre cantieri che hanno causato maggiori difficoltà si tratta del corso che porta la piazza e delle aree di via Garibaldi e San Bernardino di Spalla nuovo fontanile intitolato alle vittime del sisma siamo a pagliare di sassa e poi per la sanità la Cisla al manager dell'ASL Tordera cosa fa dei 300 precari chiede il sindacato scendiamo a fondo pagina elicottero precipitato indagini affidate all'aeronautica militare e poi a Rieti con l'Aquilano che resta in carcere ma sarà detenuto in una struttura dotata di una sezione ad hoc per dei soggetti con problemi psichiatrici sempre all'Aquila a Rosticini negli States pienone di turisti Ferragosto ridà speranza il gran caffè di Philadelphia fa spopolare la carne nostrana a Washington in montagna grande afflusso ma soliti problemi legati ai servizi scendiamo in pagina cibo e tradizioni l'estate è viva e poi Deep Purple Tributo al Parco del Castello sulle tracce del Drago evento a tutto fantasy restiamo sempre sulle pagine Aquilane ma purtroppo dobbiamo andare anche nelle pagine che riguardano la Marsica e che parlano di Ferragosto di Sangue due morti sulla 25 le vittime sono una bambina e una donna l'incidente è avvenuto nella notte del 15 dopo il casello di Celano 4 i feriti recuperati dalle ambulanze del 118 trasportati all'ospedale civile di Avezzano uno è in gravi condizioni purtroppo questa è la foto dell'incidente mortale sulla 24 invece esplode vettura al bivio di Magliano dei Marsi ancora cronaca ladra seriale scoperta dalla polizia siamo a Sulmona una trentenne di origine venezuelana questa volta è stata arrestata in basso a Roccapia Valle Gentile e Caccia Alpiromane distrutta dalle fiamme anche una parte della riserva regionale Monte Genziana ci torniamo adesso sulla sulla pagina dell'Aquila del del centro Gran Sasso poi faremo le altre province scontro sul rogo l'assessore comunale Piccinini la camera di commercio non ci ha coinvolto nel mirino leggiamo dell'esponente dell'amministrazione aquilana il manager Santilli presidente dell'ente camerale che ha organizzato la manifestazione l'accusa dopo il disastro non ha fatto sentire la sua voce ne ha convocato un tavolo di confronto il Gran Sasso è un bene di tutti danno enorme arrecato alla zona l'aquilano accusato dell'omicidio a Rieti resta in carcere dopo l'interrogatorio scendiamo in basso rogo ad aragno sospetti su una donna è stata già interrogata dagli investigatori ieri il fuoco è ripreso ma è stato subito soffocato e ovviamente ad Avezzano bimba muore nello schianto strage in autostrada la piccola di 9 anni sbalzata dall'auto gravissima la madre perde la vita un'altra donna l'esperto AC che dice senza cinture e seggiolini un urto diventa fatale appena superati i 56 km orari dunque una velocità veramente non enorme il tamponamento nella notte di Ferragosto tra Celano e Avezzano in ospedale entrambi i conducenti a poca distanza lo scorso aprile aveva perso la vita purtroppo un altro bambino il PM Cerrato ha aperto l'inchiesta è disposto il sequestro delle vetture il tratto di A25 chiuso per ore si è aspettata all'alba per eseguire ovviamente controlli molto più dettagliati ceniamo a fondo pagina la curiosità San Sebastiano Paese dell'Orso cartello all'ingresso del borgo dal 2001 i plantigradi sono di casa nella marsica piromane devasti i castagneti torna a bruciare il bosco tra Trasacco e Ortucchio Roghi anche a Magliano torniamo adesso sulla provincia di Teramo ragazza di 25 anni per rimanere in tema grave dopo lo scontro terribile impatto contro il camion dei rifiuti la giovane rischia di restare paralizzata soccorsa dal padre che di messiere fa il pompiere Pineto dramma sulla strada e questo è proprio il luogo dell'incidente con le tracce lasciate dallo scontro ma purtroppo in provincia di Teramo è ancora emergenza incendi rogo alle porte di Teramo con un fronte di 100 metri l'incidente anche a Grasciano una 17enne vola in un recinto con lo scooter e poi in basso Nereto inchiesta sull'assunzione in comune nel mirino della procura il contratto fatto all'ex assessore di Teramo Francesca Luca cantoni che vediamo proprio nella foto e andiamo proprio sulla pagina di Teramo del messaggero che sceglie però un'altra apertura ovvero con lo scontro per il teatro tra Riccitelli e ACS scoppia la guerra delle date leggiamo il gestore contesta ai comuni i giorni per gli spettacoli già segnati dal rivale Fiorenza la delibera municipale è stata emanata senza consultarci leggiamo in alto stagione di prosa rovente con eventi che rischiano di accavallarsi e sarà ovviamente necessaria una mediazione per venirne a capo e poi cronaca auto contro un cassonetto ragazza che finisce in rianimazione a centro pagina sul Gran Sasso salvati degli escursionisti c'era anche un bimbo tra di loro e i roghi le fiamme sfiorano la maxi porcilaia maiali salvi questione scuole Brucchi convoca un vertice con i tecnici ovviamente per la sicurezza soprattutto post post sisma andiamo adesso a Chieti e poi ci torniamo sulle pagine del centro apertura fusione l'aquila Chieti nasce il colosso delle imprese artigiane con fartigianato operazione definita l'ufficialità a ottobre il nuovo mente rappresenta 2.500 aziende e 6.000 addetti e poi l'evento luttoso morto il giudice Antonella Redaelli ha indagato anche sull'università aveva 50 anni aveva lavorato fino a giugno nonostante la grave malattia che l'ha colpita in basso John Fante Festival ospite il magistrato scrittore caro figlio tantissimi eventi dal 25 al 27 a Torricella Peligna questione vaccini che ritorna iscrizioni in rebus negli asili scadono domani i termini delle iscrizioni nei nido pubblici 80 posti ma non bastano corse alle strutture pubbliche l'assessore Verna a Lanciano dice i bambini dovranno essere in regola le mamme potranno anche esibire le prenotazioni dell'ASL Roghi 7 km sulla Trignina il sospetto distruggere gli autovelox a San Salvo si presenta la finanza colpito da malore poi eventi Gino Paoli e Danilo Rea a Palazzo Davalos a Basto improvvisazione diventa musica d'amore sempre a Lanciano Ferragosto presi i ladri sventato un doppio colpo andiamo adesso rapidamente sulla pagina di Chieti del centro per vedere piromane per protesta contro gli autovelox carabinieri sulle tracce di un automobilista trovati stracci imbrevuti di liquido infiammabile evacuate alcune abitazioni e poi muore a 50 anni il magistrato Redaelli ex era GIP il tribunale di Chieti ha lavorato con coraggio fino alla fine nonostante il male incurabile Sevel non piace l'alleanza con i cinesi a Tessa sindacati contrarie a un'ipotesi di acquisizione urgente un tavolo a tre con azienda e istituzioni e allora passiamo adesso alle pagine dello sport eccole qua iniziamo dal centro niente febbre da ma il Pescara tira staccate 3.750 tessere per il momento società soddisfatta del risultato della campagna abbonamenti ecco Baez arriva dalla Fiorentina nell'affare Biraghi il terzino salute e passeviola che mandano in Abruzzo l'uruguaiano sfuma però Pessina e in arrivo Golubovic andiamo avanti quando il VAR si chiamava assistenti di tribuna il progetto della Virtus Lanciano del 2014 modificato nel tempo oggi è già una realtà intervista all'ex arbitro e dirigente rosso-nero Alessandro italiani che racconta l'idea originaria e le differenze con quella l'idea sviluppata che sarà in campo dalla FIFA e poi una notizia curiosa Mijailovic relax a Rosticini nella Marsica vigilia di Ferragosto a Cappadocia per l'allenatore del Toro con familiari e amici prima del debutto con il Bologna per il ciclismo Sabato al Via e la Vuelta Aru Nibali e Frum che sfida sulle strade della Vuelta di Spagna Lega Pro il Teramo prepara due nuove sfide Tittarelli e Martinez la punta in prova dopo l'exploit nell'eccellenza marchigiana il francese arriva grazie alla collaborazione con il Claire Fontaine e poi altro ribaltone ad Avezzano Avezzano a Federico Giampaolo in serie di L'Aquila prende De Julis Banegas al Francavilla stasera Bastese e Partizzani Tirana squadra il cui dirigente è Moggi torniamo sul messaggero anche qui per vedere le pagine di sport eccola qua quella sul Pescara che dà il via all'eccessione ufficiale il passaggio di Biraghi alla Fiorentina prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione nell'affare entra il giovane uruguaiano Baez in partenza c'è Zampano anche se Zeman vorrebbe trattenerlo di spalla Avezzano via Aiello la panchina a Federico Giampaolo a proposito di Pescara grande ex giocatore ma non solo anche allenatore delle giovanili bianco-azzurre e peraltro stasera ci sarà proprio l'amichevole alle 18 dello stadio dei Marsi tra Avezzano e Pescara in serie C Teramo in arrivo ci sono Tittarelli e Martinez due giovani in prova serie D l'Aquila e il giorno di De Iulis oggi assalto decisivo per avere la firma dell'attaccante che tanto piace a Battistini bastese all'Aragona con il Partizan di Tirana e adesso apriamo leggiamo anche le notizie principali del quotidiano andiamo proprio più specificatamente sulla provincia di Teramo ripartendo con la città Ferragosto nero sulle strade teramane donna gravissima dopo lo schianto con un camion 44 anni in coma per l'impatto con un albero blitz dei nassi in una casa di riposo teramana riscontrate diverse irregolarità e poi sempre a Teramo convocato il tavolo tecnico sulle scuole martedì prossimo verranno comunicati i risultati delle verifiche bis sulle strutture con indice inferiore allo 0,2% il parcheggio di piazza donatori da opera strategica a terra di nessuno il parcheggio di piazza donatori di sangue utilizzato solamente per gettare i rifiuti e dai consumatori di eroina in provincia distrutti 60 ettari di pineta secolare canadera e l'elicotteri in azione per spegnere l'incendio che sta devastando magnanella da tre giorni andiamo avanti finisce e siamo in valvibrata in ospedale dopo la rissa in discoteca due comitive si scontrano in un locale notturno di alba adriatica dopo una discussione per futili motivi andiamo a Giulianova adesso perché Viale Orsini trasformato in un autodromo il paradosso l'eliminazione delle radici ha reso la strada più pericolosa e i residenti chiedono i dissuasori e il rifacimento della segnaletica al momento assente sempre di spalla e rimanendo a Giulianova la sciabicata il pescato donato alla mensa gestita dai cappuccini in basso ferragosto solidale grazie all'hotel Baltic sempre a Giulianova la riserva contesa il borsacchio non sia terreno di spartizione casa civica replica alle provocazioni di Borgatti Ciancaione l'oda l'operato del commissario Vallarola sempre a Roseto il sindaco ha frainteso il nostro intervento sul callo delle presenze l'associazione Roseto Incoming invita l'amministrazione ad un incontro e ribadisce la volontà di lavorare per il bene comune sempre a Roseto nuovo sottopassaggio a 2 milioni di euro sarà realizzato nella zona nord per permettere ai mezzi pesanti di raggiungere il mare e i camping e poi andiamo velocemente allo sport casting a Teramo in prova due attaccanti come avete letto si tratta di Gabriele Tittarelli e Sasha Martinez tenteranno di convincere la società a offrire loro un contratto e poi in serie di Pineto e San Nicolò pronti al via il 3 settembre della nuova serie 10 il cammino del Pineto e il cammino del San Nicolò che sono le due squadre della provincia di Teramo che disputeranno il campionato di serie D con questa notizia noi chiudiamo l'appuntamento con Mattino 6 vi ricordo alle 14 invece la prima edizione del nostro telegiornale con le notizie più importanti della giornata Mattino 6 torna ovviamente puntuale domani mattina alle ore 8 è tutto buona giornata di aver guardato di aver guardato Grazie a tutti.